Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovissima video recensione a tema Harry Potter come vi avevo promesso nel video precedente, oggi sfoglieremo assieme il manuale delle bacchette l'ultimissima monografia a tema Harry Potter edita da Panini ma prima di cominciare vi ricordo come sempre che su Pampling utilizzando il mio codice sconto 7Potter avrete il 20% di sconto cumulabile con tutte le iniziative in corso da qui all'eternità e naturalmente la felpa che indosso è di Pampling ma ne trovate tantissime altre come trovate anche le mascherine riutilizzabili trovate anche le magliette, trovate i calzini, tutto a tema nerd e sempre in info box trovate anche il link alla mia vetrina Amazon dove trovate tutti i gadget, tutti i libri che ho mostrato qui sul canale che mostrerò in futuro a tema Harry Potter ma anche di tantissimi altri fandom tutti categorizzati in un negozio che ho creato in collaborazione con Amazon quindi link in info box troverete naturalmente anche il volume di Panini che adesso vi andrò a mostrare di cosa si tratta? si tratta del nuovo volume che va a fare il paio con quello delle bacchette che uscì un paio di anni fa ed è questo qui vi ricorderete di questo volume perché ve l'ho già recensito e vi ricorderete anche del clamoroso errore che ci fu all'interno di questo volume e che successivamente è stato corretto infatti trovate adesso la stessa versione ma con le scritte verdi che in quel caso contiene la correzione dell'errore che c'è in questo volume qui dove semplicemente è stata inserita la biografia della professoressa McGranit all'interno della scheda della professoressa Sprite quindi quello fu un errore che diede molto clamore all'epoca mi fa sorridere che io però sono felice di avere in questo volume perché naturalmente un volume con un errore ha sempre quel qualcosa in più secondo me che però adesso potrete tranquillamente recuperare nella versione corretta con le scritte verdi e adesso ecco che Panini è stata così gentile da mandarmi questo che è il nuovissimo volume dedicato alle scope e ad altri oggetti legati al mondo delle scope del Quidditch di Harry Potter la forma del volume è esattamente la stessa di questa quindi potete tranquillamente metterli assieme hanno la stessa costa, le stesse dimensioni quindi vanno tranquillamente uno accanto all'altro e mi piace tantissimo sia la scelta di questo color verde delle scritte oro e della solita rifinitura lucida per le stampe a contrasto con la carta opaca anche all'interno tutte le stampe sono eseguite in questo modo e mi fa assolutamente impazzire è un volume di una bellezza e di un'eleganza ragazzi secondo me che non ha paragoni Panini Comics, Panini in generale è sempre sinonimo di qualità quindi su questo c'è pochissimo di cui discutere ma detto questo ragazzi io direi che è giunto il momento di cambiare inquadratura e di andare a scoprire segreti di questo volume assieme ed ecco qui il nostro bel manuale delle scope e altri oggetti del mondo magico quindi andiamo a scoprire quali sono questi altri oggetti dai film di Harry Potter il manuale delle scope intanto ragazzi guardate quanto è bello questo artwork con Harry Chino sulla sua scopa sono davvero bellissime queste immagini io mi tappezzerei la casa con queste cose e poi abbiamo il sommario e vediamo la suddivisione dei vari capitoli abbiamo le scope del mondo magico il quidditch le divise e l'abbigliamento da quidditch il quidditch professionistico della coppa del mondo l'ordine della fenice quindi le scope dell'ordine della fenice la battaglia dei sette potter la fuga della stanza delle necessità le scope di animali fantastici quindi comprende anche delle cose, degli artwork di animali fantastici i progetti e poi conclusione è indice delle scope quindi andiamo a guardare subito le scope ed ecco qui le scope nel mondo magico abbiamo tutta un'introduzione sulla loro utilità su come sono realizzate gli studi preparatori delle scope e naturalmente chi sono i veri fabbricanti delle scope quindi chi ha realizzato, disegnato, elaborato queste scope per i film e ragazzi c'è dietro uno studio una cura per i dettagli pazzesca guardate qui questi dettagli delle scope sono tutte realizzate a mano e io ne ho viste diverse a Londra al Warner Bros Studio Tour e ragazzi sono davvero dei piccoli capolavori dei pezzi d'arte realizzati a mano e andandoli sul posto capite perché è stato realizzato questo museo perché bisognava esporre tutto quello che è stato realizzato per questi film ma adesso cominciamo il nostro viaggio attraverso le scope quindi questa è la scopa utilizzata durante la prima lezione di volo di Harry nella pietra filosofale e poi abbiamo anche la scopa utilizzata nella prova delle chiavi volanti e naturalmente le pubblicità delle scope sulla gazzetta del profeta e poi il Quidditch il Quidditch importantissimo in Harry Potter e naturalmente non poteva mancare la nostra bellissima Nimbus 2000 la scopa iconica che io ho comprato di recente e ragazzi vi lascio qui nelle schede il link per l'unboxing della Nimbus 2000 abbiamo anche la Nimbus 2001 di Drago e poi ancora la Firebolt questa è una scopa che mi ha sempre attratto è molto rustica questa impugnatura così ruvida mi è sempre piaciuta e poi lo studio della Firebolt di come è stata abbellita con i vari simboli i vari lavori sul legno e poi la scopa di Ron che magari scope che abbiamo visto pochi secondi nei film ma che invece hanno richiesto una cura e tantissimo tempo per l'approvazione e la realizzazione questa è quella di McLaggen poi abbiamo quelle di Fred e George che andiamo a trovare qui in questa pagina che si va ad aprire ecco che troviamo delle minime differenze come qui nell'impugnatura qui abbiamo i colori di Grifondoro e qui abbiamo invece un nastrino questa invece è la scopa di Ginny poi abbiamo il baule con le palle del Quidditch che naturalmente conosciamo tutti e qui ci vengono illustrate e spiegate una per una guardate quanto sono belle queste stampe abbiamo anche la mazza abbiamo i trofei del Quidditch e poi le divise anche questa sezione è molto interessante e poi passiamo alla coppa del mondo di Quidditch in Harry Potter e il calice di fuoco che come sapete è il mio film preferito abbiamo il ballo del ceppo la coppa del mondo il torneo tra i maghi è sia il mio libro che il mio film preferito mi piacciono tantissimo e poi abbiamo qui anche la scopa di Victor Crum abbiamo le divise delle squadre che disputano la gara abbiamo i poster tutti gli scudetti è davvero molto molto completo gli accessori per la cura delle scopie il gioco da tavola questo qui è un gioco che viene venduto anche al Warner Bros Studio Tour è un vero gioco da tavola che si chiama Ruba il Boccino adesso passiamo anche alle scope dell'Ordine della Fenice qui quando scappano da Private Drive con i sette Potter abbiamo la scopa di Moody che è una sorta di Harley Davidson delle scope molto molto bella si fa notare nel film ma anche quella di Tonks che magari invece nel film non avevamo notato è che invece ha richiesto molta molta cura con questi nastrini qui dei tipici colori dei capelli di Tonks e poi abbiamo anche appunto i sette Potter e naturalmente questa che è la scopa del signor Weasley e mi fa tantissimo ridere perché come saprete il signor Weasley ama il mondo babbano e la sua scopa infatti monta il sellino di una bici e anche un tipico portapacchi quindi sembra un po' la bicicletta della zia o della nonna che va a fare le compere quindi molto molto divertente questa invece è la scopa di Lupin e questa è la scopa dei Mangiamorte ma adesso passiamo anche ad animali fantastici perché anche lì abbiamo delle scope questa ad esempio è una scopa americana che è data in dotazione agli Auror ed è molto molto aerodinamica molto affusolata è proprio diversa da quelle inglesi degli altri film di Harry Potter mentre questa qui invece è una scopa francese anche qui troviamo questa forma molto elegante che secondo me richiama tantissimo la Francia è proprio azzeccata quindi anche le scope da paese a paese cambiano così come per le automobili ad esempio o per le moto poi abbiamo anche i progetti delle scope che sono molto molto belli guardate qui quanto studio c'è dietro ogni scopa perché ogni scopa doveva essere abbastanza leggera da poter essere portata in giro dai ragazzi ma anche resistente per poterla cavalcare realmente e attaccarla ai macchinari che avrebbero dovuto simulare il volo delle scope quindi c'è dietro tutto un reale studio dietro ad ogni appunto scopa quindi è molto molto interessante da leggere questo libro e poi abbiamo le conclusioni è un indice generale con tutte le scope presenti nel libro è un volume davvero molto molto bello molto ben realizzato e ve lo straconsiglio ragazzi e rieccoci qui ragazzi col nostro bel volume tra le mani io sono davvero estasiato da questa edizione da questo volume è di una bellezza sconcertante le stampe sono bellissime di altissima qualità e vi dirò che sfogliando questo volume insieme a voi ho scoperto che la Firebolt è stata disegnata da Dermot Power Dermot Power vi ricorderete perché ha realizzato delle prime bozze del castello di Hogwarts il castello che tutti oggi conosciamo e io due anni fa ho avuto la fortuna di incontrarlo ad Etna Comics e mi ha autografato proprio un libro di Panini il libro dalla pagina allo schermo anzi no il libro era l'arte di Harry Potter e all'interno di quel volume c'era questa bellissima stampa a due pagine di Dermot Power e mi ha autografato con una penna con inchiostro dorato questo volume ed è pazzesco ritrovate il video dove vi mostro i miei acquisti dell'ultimo Etna Comics visto che quello di quest'anno è saltato quello del 2019 e ragazzi io spero di poter incontrare Dermot Power anche l'anno prossimo al prossimo Etna Comics sperando che venga un'altra volta così da potermi far autografare anche questo volume è la Firebolt che non sapevo fosse stata disegnata da lui quindi sono doppiamente contento di aver ricevuto questo volume spero di potervelo mostrare più avanti autografato e ragazzi ve lo consiglio assolutamente un pezzo da collezione di altissimo pregio questi volumi diventano abbastanza difficili da trovare nel tempo quindi vi consiglio di prenderlo al volo qualora lo voleste quindi link in infobox io ringrazio ancora tantissimo Panini per darmi fiducia con le recensioni di questi volumi come ormai fa praticamente da diversi anni quindi grazie grazie mille Panini e ragazzi io naturalmente come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace commentare fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo volume se lo avevate già preso se ve lo avevano magari regalato per Natale se eravate a conoscenza dell'uscita e naturalmente ragazzi condividete il video con i vostri amici potteriani attivate la campanella e seguitemi su Instagram Antonio.seria noi ci vediamo prestissimo con tanti altri video potteriani arriverà a breve anche quello della collezione intera giornata non l'ho dimenticato quindi ragazzi continuate a seguirmi e ci vediamo prestissimo ciao ciao